Per richiedere un preventivo per il vostro trasloco internazionale è necessario inserirsi nella home page del nostro sito. Qui troverete un modulo chiamato Preventivo Online, che è necessario compilare il modulo seguendo 5 semplici passi e indicando i tuoi dati personali e le cose che desidera espostare a un facile clic di mouse. Una volta ricevuta l'informazione avete la possibilità di richiedere un sopraluogo gratuito. Il nostro commerciale vi contatterà a casa per controllare il volume finale. Accessi della casa e la convenienza di usare un elevatore per il trasloco. Dopo le ispezioni invieremo un preventivo scritto indicando tutto quello necessario per confermare il trasloco. Se il preventivo è del vostro gradimento vi faremo sapere i passi necessari per confermare il trasloco. Il nostro staff si informerà di tempi di transito, assicurazioni, regoli doganali, tasse, ecc. Dopo aver confermato tutte le informazioni necessarie, il nostro capo di operazioni contatterà per prenotare una data per il trasloco. Grazie. 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 Grazie.